Qui è un posto dove le persone più o meno per nome si conoscono tutti, tutti sanno dove gli altri stanno, c'è proprio un senso di vicinanza, di prossimità, che è paradossale la vicinanza e la prossimità proprio in un momento in cui invece saremo portati alla distanza, al distanziamento interpersonale. Ecco qui ho cominciato a sperimentare con molto piacere e con molto stupore quanto invece la prossimità sia veramente una prossimità dei cuori. È stato il primo impatto di Don Alessio con la sua nuova parrocchia, con la sua nuova gente, quella di Valdibure, dove è arrivato nei giorni della Toscana, Regione Rossa, giorni in cui la distanza per arginare il Covid ha segnato i rapporti tra le persone. È stato l'ingresso in un periodo particolare, potremmo parlare proprio del periodo dell'incertezza, l'incertezza di una vita che si è scoperta fragile e quindi per un parroco è sicuramente anche la riscoperta di essere chiamati a custodire questa fragilità della vita delle persone. Dall'alto della collina, dove sorge l'antica pieve di San Giovanni Evangelista, Pistoia appare lontana. Qui il tempo scorre più lento, tra olivi secolari e il bosco. Accogliere il Signore nella nostra vita è questo un po' il messaggio che vorrei portare alla mia comunità e vorrei vivere con la mia comunità. Sarà un Natale particolare, sarà il primo Natale che vivrò da parroco. Sarà però anche un Natale in cui con la stessa gioia di sempre annunceremo che Cristo nasce in mezzo a noi e come dice un antico canto, il Venite fedeli, nasce per noi il Cristo Salvatore. Io dico sempre, andrà tutto bene, sì, ma con l'aiuto di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio.